RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, remittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale, ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo pc, digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis, musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. Gentilissime amiche, gentilissimi amici, il più cordiale e ben interconnessi giunge a tutti quanti voi da parte di Roberto De Angelis. Siamo di ricetta questa rubrica che è anche un podcast di RDA Radio 1 di Spreaker ed è una playlist di YouTube, sempre canale RDA Radio 1. Ricordate, siamo di ricetta. E per siamo di ricetta oggi parliamo dello sformato di carote alle noci. Ingredienti facciamo per 6 persone. Un chilo di carote, due uova, 130 grammi di parmigiano reggiano o di grana padano, fate voi. 50 grammi di pangrattato, 2 di panna fresca, 80 grammi di noci, noce moscata, burro e sale. Vediamo la preparazione di questa ricetta. Dovrete pelare e lavare le carote, tagliarle a tocchetti e cuocerle al vapore. Frullare nel mixer con le uova, un decilitro di panna, 80 grammi di parmigiano o di grana e il pangrattato. Salare e aggiungere una spolverata di noce moscata. Imburrare bene uno stampo a ciambella, versarvi il composto di carote e infornarlo a bagnomaria a 180 gradi per circa 45 minuti. In un pentolino poi scaldate un decilitro di panna con il restante parmigiano, aggiungete le noci sminuzzate, sfornare lo stampo, farlo riposare, poi sformarlo, aggiungere la salsa alle noci e servire. E credetemi, ragazzi, ragazze, signore, signore, signore voi regine della cucina e anche voi signori che vi direttate ai fornelli, questo sformato di carota alle noci sarà un piatto veramente formidabile. Vi aspetto al prossimo appuntamento con la rubrica Siamo di ricetta. Un saluto a tutti quanti voi e come dico io sempre, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Un saluto ancora da Roberto De Angelis. Un saluto ancora da Roberto De Angelis.